Come capire quando è arrivato il momento di chiudere? Sono Filippo Ongaro, ideatore del Metodo Ongaro, un approccio scientifico all'alta prestazione e alla crescita personale. Voglio ricordarti subito che alta prestazione e crescita personale sono qualcosa che riguarda tutti noi, tutti i giorni, perché non è vero che soltanto l'atleta, il top manager, il militare può raggiungere alti livelli di prestazione, ma tutti nella nostra vita, indipendentemente da quello che facciamo, possiamo imparare a costruire una versione migliore di noi stessi e passo dopo passo una vita straordinaria anche quando le condizioni esterne sembrano rimanere ordinarie. Ora c'è una cosa molto importante nella vita di tutti noi che sono le scelte. La qualità della nostra vita è direttamente proporzionale alla qualità delle scelte che compiamo e alla qualità delle emozioni che le scelte generano. Questo è un punto molto importante, tutta la vita di tutti noi è fatta di scelte. Che cosa studio, che lavoro faccio, con chi mi sposo, faccio una famiglia, non faccio una famiglia, sono tutte scelte. Eppure incredibilmente nella mia esperienza ho notato quanto le scelte facciano paura alle persone. Sembra quasi che scegliere sia una delle difficoltà maggiori che le persone vivono. Davanti alle scelte cerchiamo di ignorarle, facciamo finta di niente, cerchiamo di procrastinare, aspettiamo, valutiamo, alle volte ci illudiamo di aver bisogno di più tempo per valutare una cosa che sappiamo benissimo già quale dovrebbe essere. Eppure proprio perché scegliere ci fa paura che intendiamo, tra le scelte più difficili sicuramente ci sono quelle che riguardano le cosiddette chiusure, che sia decidere di chiudere con un lavoro, che sia decidere di chiudere con una relazione sentimentale, che sia di decidere di chiudere con una città, con una nazione, quindi trasferirsi, cambiare vita, ecco queste scelte di chiusura sono particolarmente difficili per la maggior parte delle persone. Credo che la cosa che ci fa tentennare di più sia come faccio a sapere che è la scelta giusta, come faccio a sapere che quello che troverò oltre la scelta è meglio di quello che abbandono. Questo è il dilemma in cui le persone si trovano e che appunto porta molto spesso a non scegliere per niente. Eppure ci sono alcune caratteristiche, alcune domande che possiamo farci che ci aiutano a capire se è arrivato il momento di chiudere oppure no e sono delle domande molto generiche che sono ben applicabili indipendentemente da qual è il tema della scelta. Sono le domande che puoi farti quando stai dubitando se rimanere in una relazione, quando stai chiedendoti se è il caso di cambiare lavoro, quando ti sembra di essere stufo di stare in una città e il desiderio di cambiamento, qualsiasi sia la tua situazione, le domande che ti propongo ora possono essere importanti per aiutarti a fare quella scelta. La prima domanda che ti suggerisco di fare è perché rimango? Sembra una domanda molto banale ma non è così semplice rispondere a questa cosa, cioè davanti alla relazione, la città, il lavoro, su cui evidentemente hai dei dubbi, comincia a domandarti perché rimango e se dovesse mai emergere la parolina magica paura, cioè l'unica ragione per cui rimango è la paura, ti garantisco che non è una ragione, non sarà mai, non potrà mai essere una ragione sufficiente per renderti felice. Dunque se alla domanda in profondità perché rimango la risposta è per paura, per insicurezza, per il terrore di rimanere da solo perché non so se troverò qualcosa di meglio, sono tutte risposte insufficienti per garantirti felicità. La seconda domanda che mi porrei è quali ragioni? Ossia davanti appunto al dubbio se scegliere bisogna fare un passo indietro e provare a chiedersi se avessi, se mi fossi trovato in questa situazione qui attuale adesso, anni fa, quando ho scelto questa persona, quando ho scelto questo lavoro, quando ho scelto di vivere in questo posto, che ragioni avrei avuto per scegliere? Questo è un altro punto molto importante, cioè trasferire la situazione di insoddisfazione attuale al passato quando quella scelta è maturata e chiederti se avresti scelto se la situazione fosse stata questa. Cioè se oggi sei sposato o sposata con una persona che non senti più di amare per dieci motivi, se quei dieci motivi ci fossero stati vent'anni fa avresti scelto quella persona? E molto probabilmente la risposta sarebbe stata no. È che tante volte quando non c'è più la ragione che giustifica la scelta, noi rimaniamo ancorati alle ragioni che avevamo 15-20 anni fa, ma non esistono più perché il tempo passa, tu non sei più lo stesso, l'altra persona non è più lo stessa, la vita non è più lo stessa. Quindi bisogna rinfrescare le ragioni e se non ce ne sono abbastanza in quel momento vuol dire che non c'è più un fondamento che sostenga la scelta che hai fatto molto tempo prima. E la terza domanda che ti suggerisco di farti è cosa vedo dall'esterno? Cioè se riuscissi a fare un passo al di fuori di me stesso e vedere la mia situazione di vita dall'esterno con gli occhi di qualcun altro che cosa mi direi, che cosa vedrei se io fossi il mio miglior amico, che cosa mi direbbe il mio miglior amico, cosa vedrebbe nelle sfumature dei miei comportamenti che probabilmente porterebbe questa persona esterna a dirmi ma guarda che tu non stai più bene in questa situazione. Quindi queste sono tre domande a carattere generale che ti possono però aiutare ad avere un approccio più profondo alle ragioni per cui non stai scegliendo e per cui magari non stai chiudendo qualche situazione della tua vita che sarebbe meglio chiudere per essere più felici e per costruire qualcosa di nuovo. Vedi c'è una cosa con cui voglio concludere che è molto importante, le scelte fanno paura, talmente tanta paura che tantissime persone non le affrontano mai eppure se ci rifletti un attimo la possibilità di scegliere è la dimostrazione pratica di quanto liberi siamo. Allora siccome siamo liberi non chiuderti in un carcere tu perché non stai scegliendo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Con